Ti piacciono i miei contenuti? Vi ricordo che siamo in live tutte le sere alle 21 su Twitch. Mi hanno detto che hanno fixato il... Ah, era un bug? Io pensavo semplicemente perché mi fosse scaduto mentre mi ha dato lo skill chuck. E' buono. Vediamo subito se c'è qualcuno all'intorno. Anche se scade. Beh, come in primo acceso, ottimo. Andiamo subito a vedere con Barbie che se svegliamo qualcun altro. So che qua all'intorno c'era un'altra persona. Speravo di vederlo, assolutamente, con... Col Perker. C'è qualcuno che ha stravolgimento. E due persone che comunque sono nei dintorni, barra dentro un locker, barra dietro un gen. Ma sono... Ah, dietro al palco. Mi sono arrivato a fare subito il sale, cioè non ho messo un po' tanto. Beh. C'ho la mira brutta. In questo periodo. I long shot non riesco mentre mi vedono. Vabbè, snake. Non ho il timing della chat. Ciao, pizzolo. Buonasera, come stai? Dai, ma con che hitbox ho colpito il generatore? Io sono anche qua. Devo caricare. Era un hit quello, eh. Se così fa che la dragon non dell'alien. Perché preferisco vedere l'aura del surf piuttosto che sentire dove sono. L'ho visto quello, ma... E' un po' basso. Ma porca puttrella. Bel dodge. Bel dodge. Questa qua è brava. Questo non potevo vittarlo se si crociava. Niente. Sto mirando malissimo, raga. Piro troppo velocemente. 3 killer più forti di ora. Non è più solito. Nurs, blight. E poi il terzo è... Dipende. Nurs primo, blight secondo. Il terzo dipende. Ok. C'è un cosino che non vedevo. Sto che qui dietro c'è qualcuno di ferito. Mi sa che tra l'altro è quella del nox. Povero. Scusa, posso? Sì, grazie. Hai dosicato di brutto su cod? Come mai? Un po' di tonnelino. Poverino. Uff. Ma non si può hittare, Felix. Fortunatamente. Era già passata quella. Felix è rimasto lì. Che richiamate? Se io non so come posizionare la visuale per finalizzarmi le laccette, devi capire qual è il centro del tuo schermo intanto. Considerando che l'asse, la punta dell'ascia, l'elsa dell'ascia, come cazzo si chiama, il manico dell'ascia, la punta del manico dell'ascia, devi considerare che è una delle due... Non so se è la verticale o l'orizzontale del centro. È l'orizzontale centrale. Verticale centrale. Scusa, non l'orizzontale. Poi da lì ti adegui, sai qual è il centro orizzontale, verticale, come cazzo lo vuoi dire in pratica? E da lì miri. Devi capire qual è il centro. Ti basi comunque su dove è l'ascia. Io so che quindi il centro per mirare... Così miro alla punta del gancio, per esempio. Un po' che a sinistra ero. Questo aiuterò un po' a scappa. Un po' sui comodini, ma al buio perché ti scazzi giochi malissimo. Ciao Sky, buonanotte, grazie a essere passato. Bel dodge. Sono bravi a dodgiare comunque. I movimenti ce li hanno. Ok, questo ancora. È difficile capire quando ti ha la chat, ma il problema è solo questo. No, dai, questo era un hit, cazzo. Non volevo rischiarmi. Sto giocando male a questi game da killer. Mi sta un po' tiltando. Infatti è quello di Wesker e della... No, quello di Wesker e della mercante. Il blight e l'huntras qua sto giocando non troppo bene. Credo che poi mi ritrova... Sì, sì. Se quando sai qual è uno dei due centri è molto più facile poi. No, è un cazzo io però. Il problema è che adesso con la bolla gigante non capivo dove cazzo erano... Dove sono andati dopo il save. Devo tanto andare indietro per poter andare di qua però. O sono andati qua dietro? Sembra che siano andati dietro e poi... Oh, lì ce n'è ancora uno. No, snake... Basta, snake. Cazzo mi serve però. Con due. Quanto cazzo l'ha fatto veloce quel genere? Era meno del 50. Oh. Ma è niente GG. Sì, non l'ho giocata bene. Non mi è piaciuto molto sto game. Ho sparato molto male molto a chat. E cado. Vediamo se riusciamo a recuperarci qualche kill in più adesso però. Li stanno curando quindi magari una chance ce l'abbiamo. Di solito sì. Questo game ho sparato male, ci sa. Hanno fatto dei bei dodge. Non riuscivo a leggere i dodge semplicemente. Ci sa. Non so perché abbia tirato fuori così presto. Accetta qua. Nice. Ciao Dead, buonanotte caro. Se riusciamo a slaggare abbastanza possiamo prenderci una 3k. No, parco due snake però. Ok. Aperto la porta, vuol dire che è qui vicino. No, unbreakable. L'altro mi sa. L'altro mi sa che è unbreakable. Perché aperto la porta qui non può essersi alzato anche. Non potrebbe averlo alzato comunque. E ciò è un problema. Perché non so dov'è. Non mi posso neanche allontanare troppo in teoria. Che cura... No, wait, what? Mi ha fatto aprire la porta sia la parità che curarsi. Medikit. Non so se riusciamo ad andare su. Forse l'avevano aperta prima e non me ne ero reso conto. Può essere. Ha Dead Hard, lei ricordiamoci. Non è possibile che ha dato Dead Hard da ferma. Porca troia, che gioco di merda. Era letteralmente un Dead Hard mentre droppava il pallet questo. L'avevano aperta prima forse la porta, non me ne ero reso conto. Ora sono sul normale, Tad. Ormai non possono più fare il save. Oh! 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 Ti prego, sì! No! Riesce a uscire comunque. Non riesce a uscire comunque invece. Let's fucking go! E si piglia la 3K. Let's fucking go! Easy game. La porto più lontano per esempio. C'è fatto che se c'è liberazione... ...è qualche arcaica ragione. ...è qualche arcaica ragione. Non ha liberazione. Vabbè. È stato un game di merda. Ho fatto cagare il cazzo. Beh, what? Ho fatto un bel hit finale. Letteralmente. È stato proprio un game di merda questo. Però... Ho fatto un bel hit finale. Felix. No, non aveva un breakable. Ci vedo che l'aveva aperta prima e non me ne ero reso conto. No, non aveva un bel hit finale. 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 No, non aveva un hit finale. No, non aveva un hit finale. Grazie a tutti.